Pesaro è città di piloti e di motori da un secolo e oggi i ragazzi delle scuole medie studiano le gesta di Tonino Benelli che ha portato la città sul tetto d'Europa negli anni 20. È facile intuire quanto sia forte il fascino che un'azienda di questo calibro può suscitare agli occhi dei giovani studenti. Ecco perché viene realizzato un progetto tra il museo officine Benelli e la scuola media Giacomo Leopardi che ha voluto sottolineare ancora di più l'importanza che la storia del territorio ha nella formazione dei ragazzi. Il progetto consiste, è nato da un'idea che ho avuto con l'insegnante Laura Scalbi. Abbiamo pensato un giorno che era importante per i nostri alunni pensare appassionabili alla storia pensando a qualcosa però che fosse del territorio e che fosse anche suscitasse anche passioni. Quindi il connubio è stato ideale perché abbiamo pensato alle moto e abbiamo pensato alla Benelli. Quindi il tutto è nato così per appassionare i nostri ragazzi di terza, alla storia, al territorio, alle cose importanti del territorio e quindi dal partire dal museo Benelli siamo partiti a questa fase conclusiva quindi dalla storia della Benelli all'attuale storia del motociclismo. È importante anche perché Benelli è un nome glorioso della nostra città, è un brand noto in tutto il mondo e perché i ragazzi devono conoscere le nostre ricchezze. La Benelli sicuramente ha rappresentato una ricchezza non solo economica ma una ricchezza in quanto ha formato tantissime persone al mondo del lavoro e al mondo del motociclismo che dà tanto prestigio alla nostra città. Innanzitutto devo ringraziare la scuola e mi piace questo progetto anche per i ragazzini, ritirare fuori le tradizioni. C'è già ad esempio parlare di un marchio prestigioso come la Benelli che ha fatto la storia di Pesaro, del motociclismo, insomma è stata una fascia importante. Farli rivivere, farli tirare fuori secondo me è uno stimolo importante, è bello. Io dal mio punto sono orgoglioso di poter essere qui a parlare dei ragazzini. Sinceramente quando facevo le medie non avrei mai pensato di riuscirci un giorno e raccontare quelle che sono le nostre esperienze in televisione, quando raccontiamo le moto, quando raccontiamo quello che accade in pista, questi ragazzini che poi diventano campioni del mondo come è successo quest'anno a Pecco Bagnaia, quindi trasmettere le emozioni della pista a chi è a casa e spero che questo qui possa aiutare i ragazzini di seguirci, di venire dietro, magari di dare stimoli non prettamente solo per la moto ma anche per altri argomenti.